Due, tre punti di distacco da recuperare per William Raffi, Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Il match finisce, 32, 1, 1, Corea, a winner. Next match, 65 kg, 1-8 final, on the mid scene. Amir Mohamed Abaka, Yazidani Cherati, Iran. Sayetek Okasov, Kazakistan, let's see. Let's see. First Sall, Nancy, other Sall. First Sall, Nancy, other Sall. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti